Alla Puglia non manca proprio niente, è un posto meraviglioso e sono contenta di poter tornare così frequentemente grazie a voi. E beh calcola che il nostro videoclip di Caramello è stato girato in Puglia, vedi io ce l'ho sempre pronta lì, è stato girato in Puglia e quindi c'è un po' di Puglia che ci porta fortuna anche stavolta. Sempre grande energia e un bellissimo vibe, io poi vengo spesso qui anche per fare concerti, quindi a parte battiti sarò spesso in Puglia quest'estate. Puglia è incredibile, è il posto preferito di sempre, bellissimo. Da Ligure che abbiamo un mare molto diverso, mi sono proprio innamorato. Come è stato cantare vista mare? Molto 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 bello, ma in generale cantare dopo due anni di fermo è sempre un'emozione forte, poi un posto così bello ancora di più. È una terra che mi sta tanto vicino al cuore, anche perché sono di origini pugliesi. Puglia autentica meraviglia, oggi l'avrai notato anche dal palco questo mare. Bellissimo veramente. La Puglia è ospitale, è calorosa, è un po' come la mia Napoli e poi si mangia benissimo. Quindi raga tutti in Puglia. E vieni in Puglia che c'è tanta gente che ti segue. E poi li sono ovunque raga, ci vediamo in giro, sono ovunque. Grazie.